Nella tarda serata di ieri a Santa Cecilia di Eboli, i carabinieri della locale stazione guidati dal capitano Luca Geminale hanno arrestato un cittadino in nazionalità algerina per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo aveva appena ceduto alcune dosi di hashish a due giovani del luogo in via della Piana quando è stato bloccato dagli uomini dell'arma, impegnati in un'attività tesa al contrasto di reati in materia di stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish e della cifra di 200 euro, ritenuta provente dell'attività di spaccio. I due giovani acquirenti sono stati segnalati alla prefettura di Salerno mentre l'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.